Tadina, stella è una cosa per te? cosa? lo sai? cos'è? scarpe nuove! con noi? luci! spero che ti vadano amore, non le più grandi che c'erano, prova un po' allora io credo di sì quando c'è la volontà off camera, ho messo sopra il piede e mi stava anche grande senti un po' la punta alzati i piedi alza su a sentire ah è qua sì 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 vanno yeee batti i piedi non l'ho toccata adesso allora possiamo aprirle a questo punto stacchiamo piede via aiuto cioè di lunghezza mi stanno giuste ma stringono un po' perché sei i piedi raccicciottello? e perché sono un po' perché mi fanno male ok ok adesso rimetti le aspetta che adesso ah giusto manca ancora un po' attimo sennò mamma non è che ci pagano non credo non credo neanche se le spiegelite eh le abbiamo presa il litro ok vedo che se il video vuole pagarci allora se ci volete pagare pagateci però da questa avevo tolto la carta wait yeee cosa ho scartato? lo so lo so lo sappiamo ok non è partita non lo hai detto? e parto no e e infirà è difficile da mettere? e poi non c'è mai di spazio davanti eh lo so ok postala ai corti la carta per favore fai un po' una passeggiata vediamo un po' devi fare un salto fai un salto uuhuuu adesso non devo dire non so che scarpe mettere anche se ho solo un paio di scarpe eh si il tuo secondo paio di scarpe prova a camminare vediamo un po' una camminata normale uuhuuu eh si lui avevo fatto un passo un po' forte e l'altra? si illumina anche l'altra? ci hanno apportato sui talloni secondo me se vai così leggiata non si tirano salto sui talloni eccole bellissime ma se non me sai dove sono? sono tipo alcuni qui dentro in tutta la scarpa oh già quando si prende contenta amore mio si si eeeh iniziate un po' meglio la settimana direi vediamo un po' oh che atletica aspetta 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 fai tu il senare del video oltre che se volete compratele ahahahahah ahahahahah andate a comprare i nostri amici se lo volete se vi è piaciuto questo video lasciate un like e iscrivetevi al nostro canale diario di barbara e ciurmo che servizio completo, grazie Elena e attivate la campanellina per favore se vi scrivete giusto ciao Marenda si, ciao sono pazza io ho papà, prega, aiuto